Per noi questo viaggio rappresenta un volere andare a capire bene dove i nostri adegi cristiani sono nati, quindi andare proprio dove è nata la cristianità e dove c'è questo connubio di quattro religioni. Sicuramente ci piace andare anche a fare servizio, che è la nostra cosa per cui facciamo scottismo, quindi andiamo a fare servizio in un centro per bambini disabili e andremo anche a vedere le cose più importanti della Nazione.